Grazie a tutti. Spirat amorem caputum, Christe inclinatum, manus expanse, pectus apertum, fili Dei. Qui venisti, redimere perditos, molitamnare redemptos. De palle flectus ad tecamantivum, dies bubone exaudi semitum. De quensura observes criminum, pulveratum cor precadur, tu pie deus. De lo studio dell'antifona gregoriana, oquantum in cruce, spirant amorem, caput tum, Christe inclinatum. Manus expanse, pectus apertum, fili Dei. Qui venisti, redimere perditos, molitamnare redemptos. De valle fletus ad teclamantium. Iesu bone exaudi gemitum, nec mensuram observes criminum, pulneratum cor precamurtum, pie deus. Questo canto gregoriano è dell'ordine monastico cistercense. È attribuito il testo a San Bernardo di Clervaux, fondatore dei monaci cistercensi. Oquantum in cruce, indicato tempore passionis, si trova a pagina 120 del Laudes Vespertine. Questo libro è stato pubblicato a cura dei monaci cistercensi, Vestfalle, 1926. Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scola Gregoriano Mediolanensis di Milano, Italia, settembre 2013. È semplicemente uno studio. Al termine di questo video studio ti faccio vedere lo spartito che ho utilizzato, che si trova, come dicevo prima, nel libro Laudes Vespertine, edito a cura dei monaci cistercensi. Fondatore Bernardo di Clervaux. Per fare questo studio ho utilizzato una tastiera, poi canterò senza accompagnamento, come tutto il canto gregoriano. Questa è la prima lettura. Questa è la prima lettura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.